Cambio Networks ha da sempre a cuore il proprio canale, quindi i propri partner con i quali portiamo le soluzioni sugli utenti finali. Quindi con queste nuove policy di canale abbiamo deciso di aumentare ancora di più il nostro ingaggio e il nostro legame con i partner. Il programma di canale è basato soprattutto su alcuni pilastri fondamentali, da un lato la protezione del progetto, ovviamente quando si lavora insieme è corretto che tutti siano remunerati e quindi il partner stesso abbia anche il suo giusto livello di marginalità e quindi di compensazione. Dall'altro lato poi una meritocrazia sul livello di partnership, quindi ovviamente chi più è ingaggiato con Cambio, chi più sposa la soluzione One Network su tutte le nostre soluzioni, più ovviamente avrà dei vantaggi, sia in chiave marketing, sia in chiave di scontistiche, sia in chiave ovviamente di prodotti da laboratorio, piuttosto che supporto pre e post vendita.